Era stato il pomodola di scortia tra l'assessore al turismo Maglio Messina e il sindaco di Palermo Leo Luca Orlando. Adesso arriva l'ufficialità. La prima tappa del Giro d'Italia partirà il 3 ottobre da Monreale. Una festa rosa trasmessa in Mondovisione, un'occasione unica per consacrare al mondo l'immagine della cittadina normanna e del suo patrimonio artistico monumentale di caratura internazionale, che ha giocato certo un peso non indifferente nella scelta della città di partenza del Giro. E' già iniziato il Grand Down a Monreale, che si prepara ad essere magnifico palcoscenico nazionale ed internazionale e ad accogliere la carovana rosa. Centinaia di ciclisti e persone degli staff, sponsor e televisione da tutto il mondo, senza contare le migliaia di visitatori che arriveranno da ogni dove. Un grande evento di promozione turistica, per citare le parole del presidente Musumeci, che metterà in evidenza le parti più belle e gli aspetti paesaggistici più interessanti del nostro territorio. Un'occasione buona per fare sport e fare turismo e per far conoscere in Italia e nel mondo la parte migliore della nostra terra. Un momento unico e storico per Monreale e per la Sicilia in terra, dopo mesi di dubbi da parte degli organizzatori del Giro, anche sulla fattività stessa dell'evento, che era stato annullato a causa del lockdown. Saltata la partenza da Budapest in Ungheria, adesso si gioca tutto in territorio nazionale, partendo da una cronometro lunga 16 chilometri. Palermo comunque ci sarà con il traguardo della prima tappa, che si concluderà nel cuore della città.